Per come è andata la partita bene, è stata una partita difficile perché abbiamo incontrato una squadra che è venuta qua e ha difeso in maniera molto compatta. Abbiamo trovato le linee completamente chiuse e non era facile per noi, soprattutto che non eravamo molto brillanti alla terza partita, riuscire a muoverli con il palleggio e quindi per quello è stata una partita difficile per la tipologia di gara. Incontrare una squadra totalmente chiusa con dieci giocatori davanti all'area di rigore non è facile, soprattutto se non stai in maniera perfetta fisicamente come lo eravamo noi alla terza partita. Poi il secondo tempo è andato un po' meglio, dopo l'1-1 abbiamo avuto forse cinque minuti in cui avevo la percezione che la partita era stata ripresa, anche dieci. Poi dopo ci siamo un po' ricalmati e la partita sostanzialmente è ritornata in equilibrio. Mi aspettavo di più, sì, il cambio del modulo è stato positivo perché va col 4-3-3 contro una squadra così chiusa, se non stai bene fisicamente e non riesci a produrre gioco fai fatica e è stato positivo aver cambiato modulo. Anch'io mi aspettavo di continuare su quel trend visto all'inizio del secondo tempo. probabilmente non siamo riusciti a mantenere quella intensità alta. Io penso che la partita, ma non è perché voglio trovare una scusa, però ho visto la squadra meno brillante rispetto al solito e la giustificazione che posso dare è che la partita contro il Bari, la partita contro il Foggia in quattro giorni, anche emotivamente, non è stata facile per i giocatori riaccendere il motore, avere un carico di benzina pieno per fare una grandissima prestazione. Abbiamo fatto giocare tanti giovani oggi, la linea difensiva del secondo tempo era composta da un 99 e due 2000 e non so quante squadre fanno giocare ragazzi così giovani, quindi per noi è qualcosa di importante. Certo che aspettarsi da ragazzi così giovani, poi in campo ce n'erano altri, un 2000 davanti a Germi, 99K sulla fascia, aspettarsi da questi ragazzi che già siano pronti a fare il salto di qualità anche io lo vorrei, ma purtroppo nel loro processo di crescita non è così e quindi noi dobbiamo rimanere calmi e cercare di tirare fuori il massimo da questi ragazzi. In relazione alla stanchezza fisiologica, io sono d'accordo con te dopo triggare, ti chiedo se ti aspettavi un po' di più dai subentri e in seconda battuta se a volte non sia il caso di cambiarla un po' di più nella formazione iniziale quando ci sono tre partite, perché se ci siano tre partite non si sapeva. Allora, non lo so, questo è difficile stabilirlo. Adesso magari che abbiamo pareggiato la nostra mente ci dice sì, magari potevamo cambiare qualche giocatore in più se avessimo vinto, come è successo in altre occasioni precedentemente, è una valutazione che faccio fatica a risponderti. Onestamente mi aspettavo qualcosa in più nei cambi, perché dobbiamo essere un po' più incisivi quando subentriamo dalla panchina, quello è un aspetto su cui stiamo lavorando, perché sono determinanti i cambi nel secondo tempo. Non hanno giocato male, però qualcosa in più, visto che erano freschi, potevamo fare qualcosa in più, quello sì. Grazie.